Ciao bellezze! Allora, oggi attraverso questo breve video voglio rispondere a tutte quelle ragazze che in questi giorni mi hanno chiesto informazioni sulla laminazione ciglia. La laminazione ciglia è una tecnica avanzata destinata ad esaltare la bellezza naturale delle nostre ciglia, conferendogli spessore, curvatura e lucentezza senza dover ricorrere all'applicazione di ciglia finte. Si tratta quindi di un trattamento altamente curativo che attraverso l'utilizzo di prodotti specifici ricostituisce il tessuto dei nostri peletti, nutrendoli, idratandoli e donandogli sicuramente un aspetto sano e naturale. Nel post che potrete leggere a breve sul mio blog vi mostrerò tutti i passaggi che vengono eseguiti durante un trattamento di laminazione ciglia e quali prodotti vengono utilizzati. Come potete vedere questo è il risultato dopo circa 24 ore dal trattamento. Non porto assolutamente il mascara anche se poi vi spiegherò nel post che con questo tipo di trattamento non dovete assolutamente rinunciare al make up, anzi sicuramente il risultato sarà molto più bello avendo già una base molto curva delle vostre ciglia. E niente cos'altro aggiungere? Voglio ancora ringraziare il centro extension ciglia Elen che ieri si è occupato della bellezza dei miei occhi. Sono assolutamente soddisfatta del risultato naturale ottenuto. E nulla ragazze ci vediamo sul mio blog. Se avete domande mi raccomando scrivetele nei commenti e vi risponderò il prima possibile. Un bacio e buona giornata a tutte!